Il ruolo dell'Italia nel Mediterraneo e nei paesi del Golfo, ma l'Italia può avere un ruolo? L'Italia non solo può avere un grande ruolo nel Mediterraneo e nei paesi del Golfo, sia per motivi storici, sia per motivi geografici, noi siamo parte di quest'area, sia per motivi di affinità culturale e politica che da sempre ci portano ad avere una linea coerente di presenza e sviluppo in un'area che è strategica e profondamente correlata al nostro paese. Quali sono i paesi del Golfo interessanti per l'Italia? Praticamente tutti, noi abbiamo ottimi rapporti con tutti i paesi e nel Consiglio di cooperazione del Golfo siamo molto presenti con le nostre aziende, i sei paesi del Golfo del GCC rappresentano il principale mercato estero fuori dell'Occidente dopo la Cina per l'Italia come dato aggregato. Bisogna anche considerare le grandissime potenzialità nei confronti dell'Iran, che è un paese che non fa parte del Consiglio di cooperazione del Golfo ma è sempre in quell'area, soprattutto adesso con la fine delle sanzioni, con il ritorno dell'Iran anche a livello economico nell'ambito della comunità internazionale e quindi con le grandi potenzialità di sviluppo. Non solo nel settore dell'energia, la prima cosa che viene in mente quando pensiamo ai paesi di quell'area, quindi l'idrocarburi, l'energia, il gas, ma anche nel settore delle infrastrutture, delle infrastrutture critiche, della presenza italiana nella tecnologia. Questi sono paesi che stanno anche cercando di cambiare la loro economia, basta pensare al programma dell'Arabia Saudita per il 2030 in cui vogliono riconvertire, arrivando addirittura a pensare a fonti di energia rinnovabile dove, come sappiamo bene, l'Italia è leader mondiale. In una situazione di questo genere, come lei parla della possibilità di questa collaborazione, di questa esportazione, noi siamo terra di migranti ma nello stesso tempo c'è un'Europa in subbuglio per i paesi dell'altra parte del Mediterraneo, pensiamo all'Isis. Allora, tra la paura e la voglia di fare, come ci si infila in questo tunnel? La paura si sconfigge attraverso la voglia di fare, se ci facciamo prendere ostaggio della paura o comunque delle istanze di sicurezza che sono fondamentali, che vanno ben considerate, non riusciremo a uscire da questo problema. Occorre cercare di risolvere il problema non solo con una politica di sicurezza, che è doverosa, ma anche con una politica di attenzione nei confronti di questi paesi, penso ai paesi della sponda sud del Mediterraneo, ma anche alla fascia immediatamente più bassa, quella dell'Africa, perché poi questi immigrati vengono dall'Africa e il Medio Oriente, il Mediterraneo rappresentano una cerniera e quindi potenziare lo sviluppo. Questo è il motivo per cui la Farnesina ha lanciato un grande programma di sviluppo che è stato preso dal governo con la creazione di un fondo speciale per l'Africa che nel giro di un anno spenderà 200 milioni di euro e negli anni successivi verrà continuato, proprio per sostenere anche da un punto di vista economico e sociale con dei progetti di sviluppo questi paesi e cercare di risolvere la questione in quella zona. Il G7 può essere un momento di pace tra tutti i paesi e soprattutto per creare le condizioni di uno sviluppo tra le due parti? Il G7 ha fatto una dichiarazione molto importante sulla lotta al terrorismo in cui si è registrato un grande consenso da parte di tutti i sette paesi ma anche si è soffermato sui problemi delle migrazioni in quest'ottica di sviluppo di questi paesi, di collaborazione con questi paesi e quindi senz'altro è un'occasione molto utile e in questo momento io credo che sia stata una fortuna che il G7 sia stato presieduto da un paese così esposto come l'Italia a questa problematica anche per sensibilizzare gli altri paesi che invece forse sono meno sensibili perché meno direttamente coinvolti. Quindi si può costruire una rete tra le due realtà del Golfo e del Mar Mediterraneo e pensare che questa rete può portare benefici ad entrambi? Certamente, da un lato abbiamo una situazione in cui il Mediterraneo è estremamente simile, i paesi del Mediterraneo hanno delle grandissime affinità non solo culturali ma anche come potenzialità economiche e di sviluppo, dall'altro è l'area, quella del Mediterraneo e del Golfo meno integrata al mondo dal punto di vista degli accordi internazionali. Quindi c'è un paradosso e il ruolo dell'Italia può essere proprio questo, di favorire un'integrazione che arrivi anche a un'integrazione istituzionale con questi paesi. La cultura può essere uno dei settori che fa da tramite? La cultura è senz'altro uno dei fattori principali e sotto questo punto di vista l'Italia, se pensiamo ai grandi paesi europei, è il paese più affine culturalmente ai paesi arabi, ai paesi del Mediterraneo e quindi anche in questo campo sicuramente possiamo giocare un ruolo straordinario. E questo anche attraverso l'azione delle nostre rappresentanze diplomatiche, gli istituti di cultura, ma anche gli istituti di ricerca, l'università e realtà come per esempio Glocal che ci ospita oggi sono tutte realtà che ci possono aiutare a sviluppare i rapporti con questi paesi anche nella cultura. Diciamo che è un processo in itinere. Senz'altro. Però l'Italia ha tradizionalmente delle buone basi sotto questo punto di vista e l'impegno del governo e dei governi che si sono susseguiti e che si susseguiranno in Italia è sempre quello e non può essere altrimenti. In qualche modo la geografia, anche umana, ci obbliga a percorrere questo cammino. Professor Locke, parliamo dell'Istituto Mediterraneo che collabora con l'Asia e l'Africa. Che tipo di rapporti ci sono? Ma è un istituto che fa fondo alle radici già nel 1970 è stato creato, che ha un'esperienza storica importante e che prima si occupava prevalentemente dell'Asia, poi ha allargato il suo interesse all'Asia e al Mediterraneo, ora Asia, Mediterraneo e Africa. Chi è? Ah sì, Asia, Mediterraneo e Africa. La ragione sociale, la funzione principale è quella di facilitare le relazioni tra il mondo civile, il mondo delle imprese, il mondo della cultura e anche parti delle istituzioni nostre, facilitare le loro relazioni, la loro collaborazione con i propri colleghi dei paesi ai quali fa riferimento l'Istituto, prevalentemente Mediterraneo, Asia e Africa. È possibile questo tipo di collaborazione in un mondo caotico come quello di oggi? Sì, sicuramente. Ovviamente oggi abbiamo dei problemi drammatici che si sono accavallati con le difficoltà normali e però quella è la direzione con maggiore difficoltà ma è imperativo per noi andare avanti in quella direzione. È imperativo perché in ogni caso abbiamo dei punti di contatto dal punto di vista anche culturale, storico. L'Italia non può vivere senza questi partner vicino, deve rafforzare i partner per poter avere da questi un contributo al ruolo, alla sua funzione. Noi siamo al centro dell'Europa, tra i paesi che in Europa contano maggiormente, tre, quattro adesso, Francia, Germania, Italia e abbiamo la responsabilità di collegare questi paesi con l'Europa dando a questi un grande contributo di integrazione in questo che è il centro più importante. L'Europa da sola è un partner che sovrasta gli Stati Uniti, la Cina, se è unita e se è coordinata e pertanto credo che ogni paese sia orgoglioso di poter essere un nostro partner integrato dentro la realtà europea. Con Mario Caligiuri vorrei parlare dell'intelligenza economica e dell'interesse nazionale. Come si collegano queste due aree? Beh, c'è un collegamento strettissimo tra intelligenza economica e interesse nazionale poiché il compito preciso degli Stati è quello di garantire il benessere dei propri cittadini e questo si ottiene attraverso una serie di politiche che possano favorire questo risultato. E allora in questo quadro l'intelligenza diventa fondamentale per acquisire le informazioni possibilmente in via preventiva che possano consentire agli Stati di poter sviluppare le proprie economie e di attirare investimenti all'interno dei propri territori. Nel caso italiano la particolare collocazione al centro del Mediterraneo fa sì che lo sviluppo dell'intelligenza economica possa dare dei risultati molto importanti nel presente e nel futuro. Finora è stato così molto poco. Allora diciamo che non è un caso se è nato il Master di Intelligence in Calabria. Grazie all'intuizione del Presidente Cossiga dieci anni fa abbiamo organizzato il primo Master in Intelligence degli Atenei pubblici italiani perché riteniamo che lo studio dell'intelligence vada nell'interesse di rafforzare le istituzioni dello Stato. Rafforzare le istituzioni dello Stato con quello che sta succedendo nel mondo e soprattutto in Europa c'è la possibilità di una conoscenza e di una prevenzione per eventi così catastrofici? Negli ultimi mesi stiamo assistendo a una trasformazione profonda dell'interpretazione e della percezione dell'intelligence. Da luogo oscuro e deviato dello Stato è invece diventato oggi uno strumento fondamentale per fronteggiare il fenomeno terroristico. È una esagerazione perché l'intelligence non è l'acqua di Lourdes. Il fenomeno ormai è troppo ampio e per troppo tempo non si è affrontato con la necessaria fermezza. Anche perché secondo alcune interpretazioni il fenomeno del terrorismo è una conseguenza delle politiche sbagliate dell'Occidente. Chiudendo questa intervista diciamo, quando parliamo dell'intelligence parliamo di servizi che possono essere la tutela anche della nostra economia. Ci sono le condizioni per creare un'economia con i paesi del Golfo o in realtà ci vuole molta attenzione soprattutto capire a cosa si va in conto? La politica estera italiana nel corso degli anni ha avuto dei punti fermi e delle variabili. Di fatto noi abbiamo relazioni privilegiate con tanti Stati del Golfo e del Mediterraneo che alimentano la nostra economia e noi alimentiamo la loro. Dobbiamo accelerare questi processi e dobbiamo difenderli dalla globalizzazione e dalla competizione delle altre nazioni. Questo significa però avere una linea politica, una visione dei problemi permanente nel tempo. Assessore, questo convegno che c'è oggi che riguarda il Mediterraneo, i paesi del Golfo, le opportunità di sviluppo per le aziende italiane, quale può essere la relazione con la nostra città e con il nostro territorio? Beh, sicuramente noi dobbiamo guardare assolutamente il Mediterraneo, soprattutto la parte sud. Paesi che vanno dalla Libia all'Egitto, sono paesi fondamentali dove sono proprio di fronte a noi quindi ci faciltelebbero anche un'eventuale relazione. Sicuramente sono delle zone in forte espansione e quindi probabilmente con le nostre piccole e medie imprese potremmo riuscire sia a creare una forma di sviluppo per le nostre imprese che vanno là quindi l'espansione dei nostri mercati e poi quindi anche migliorare la loro vita. Mi riallaccio proprio oggi a quello che sta succedendo sul porto di Crotone con lo sbarco degli immigrati. Sicuramente noi dobbiamo prendere molto in considerazione lo sviluppo verso il Mediterraneo perché questi paesi, se noi riusciamo con i nostri investimenti a migliorare la vita sociale, culturale, economica sicuramente quello che è successo oggi non succederà più quindi questi continui sbarchi e quindi tutto ciò che comporta uno sbarco non si verificheranno e quindi anche la destabilizzazione non solo nostra locale, dell'Italia e dell'Europa forse avrebbe un freno. Si potrebbe in qualche modo frenare l'emigrazione di queste popolazioni aprendo delle aziende lì e mettendo queste persone a lavorare? Sicuramente questa è un'opportunità, è una chance che noi dobbiamo per noi e per il loro territorio il motivo per cui loro partono e lasciano tutto ciò che hanno per venire da noi è proprio perché hanno necessità di una vita migliore quindi se noi riusciamo a rendere questa vita culturalmente e economicamente adeguata sicuramente freneremo questa grande emigrazione. Mimmo Palmieri, Glocal Cal, Centro Studi di Crotone parliamo un attimo di questo convegno che riguarda il Mediterraneo e soprattutto quelle che sono le opportunità di sviluppo. Sì, questo secondo convegno, il primo fu organizzato qualche anno fa è un pochino rivolto a illustrare a quelli che sono gli imprenditori calabresi, esponenti delle istituzioni quelle che possono essere le opportunità che offre in questo momento il mondo del Mediterraneo e dei paesi del Golfo purtroppo le croniche recenti ci fanno identificare il Mediterraneo con i problemi dei profughi di chi è senza lavoro, senza prospettive di vita e viene a cercarle qua in Calabria, in Italia, in Europa con diversi problemi sotto diversi aspetti mentre si da poco risalta quelle che sono le opportunità commerciali, culturali e istituzionali con questi paesi di creare una rete con l'altra parte del Mediterraneo esatto, con tanti paesi che si affacciano sulle nostre sponde e anche del Golfo Persico, Arabico Pensando che noi siamo una terra ad esempio dove l'agricoltura si trova grande spazio perché è una terra che ha questa vocazione, i nostri prodotti potrebbero arrivare dall'altra parte? Guardi, più che i nostri prodotti andare là, per quelli che sono gli accordi con la comunità europea sono prodotti di quei paesi che vengono in Italia il nostro vantaggio è che invece esportiamo tecnologia penso ai sistemi di packaging e quant'altro che sono molto richiesti ed è uno scambio e purtroppo magari si lamenteranno gli agricoltori mentre gli industriali che producono sistemi di packaging hanno grosse opportunità di sviluppo e di fare affari in quei paesi Nella nostra regione in Calabria c'è questo sviluppo e questa tecnologia da esportare? Beh, sicuramente packaging forse un po' di meno però ci sono diverse aziende che già operano all'estero in diversi settori e che col supporto delle istituzioni, penso al Ministero degli Esteri all'Agenzia Lexice, l'Agenzia ITA italiana trovo un supporto per penetrare bene quei mercati e ridurre al minimo il rischio infrenditoriale Certo, questo è importante tenendo conto che l'Italia vive momenti molto particolari come faceva riferimento lei insomma siamo più, e noi siamo più terra di cronaca negativa piuttosto che di sviluppo e di recupero di un'immagine però ecco, questo tipo di rapporto tra le due parti può essere un segnale chiaro per dire collaboriamo piuttosto che ritrovarci uno contro l'altro Ma quello sicuramente, c'è una forte richiesta di tecnologia di made in Italy da parte di questi paesi e sono poche, per quanto potrebbero essere molto di più le aziende, nello specifico calabrese che si affacciano con convinzione su questi mercati basta lavorare un pochino con un po' di impegno e decisione per avere risultati anche nel breve periodo soddisfacenti Quali sono le nuove tecnologie che per esempio dalla Calabria possono arrivare dall'altra parte? Beh, nella Calabria alcune cose possono essere le tecnologie di coltivazione anche i sistemi irrigui ad esempio, penso oppure ci sono diversi produttori di materiali cassetti di plastica, materiale plastica che potrebbero trovare uno sbocco commerciale non indifferente là poi cambiando settore i polimetal meccanici di Crotone e di Vibo Abbiamo già un imprenditore che è in Kazakhstan Esatto, sì, recentemente la Metal Carpenteria che tra l'altro ci ha aiutato ad organizzare questo convegno ha aperto un branch, un segnale di forte coraggio e loro esportano in diverse parti del mondo e come loro ce ne sono altri che potrebbero farlo e questo qua, il senso di questo convegno è appunto quello di illustrare le possibilità dire quali sono le strade da poter perseguire riducendo i rischi imprenditoriali al minimo aggara Grazie a tutti.